Si è svolto nella splendida cornice del Teatro Comunale Arnone di Cotronei la 25esima edizione del Premio SILA. La manifestazione, curata da Giuseppe Pipicelli, che è anche l'ideatore dell'evento, ha lo scopo di dare massima visibilità alla Calabria ed in particolare alle potenzialità immense ed inespresse del territorio silano. Da qui l'idea di conferire ogni anno un riconoscimento dei calabresi illustri, capaci di distinguersi nei loro rispettivi settori di attività in giro per l'Italia e per il mondo. I premiati di questa edizione sono stati Fausto Taverniti, dirigente della RAI, l'imprenditore Guerino Aiello, titolare dell'industria del caffè, Nico Demoli Brandi, affermato imprenditore nel settore della produzione del vino, Nuccio Caffo, amministratore dell'omonimo gruppo imprenditoriale, Giuseppe Biafora, albergatore e ristoratore, Alfonso Drago, imprenditore nel settore dell'edilizia, Giussi Versace, vincitrice dell'ultima edizione del programma Ballando con le stelle e il presidente della Regione Calabria, Mario Liverio. Ai premiati dell'edizione 2015 è stata conferita l'ambita targa realizzata dal maestro orafo Michele Affidato, a condurre la manifestazione Antonella Pezzetta.